...in termini assoluti che quello che fa meglio, no? Però sono talmente tante partite, tante partite di livello, che devi anche gestire fisicamente, quindi sicuramente Roger è quello che fa meglio, fisicamente, perché il Marrae sta bene, ma non è al 100%, gli opoli generali erano un problema e gli altri 4...